Lo Zafferano dell'Aquila torna nella sua città e l'evento che domani animerà il cortile K. Cappelli nel centro storico aquilano. Uno dei cortili più belli del territorio si apre ad una sfida tra chef con una giuria d'eccezione. Gli chef proporranno al pubblico piatti con lo zafferano al centro. Uno scrittore e quattro chef tra immagini, narrazioni e degustazioni, un evento che arriva dopo la sottoscrizione di un patto per il territorio che mira, come spiega l'associazione Le Vie dello Zafferano, a creare possibilità di sviluppo nell'area della DOP Zafferano dell'Aquila. L'evento si chiama Lo Zafferano dell'Aquila DOP torna nella sua città ed è un evento, è un'occasione che fa ritornare il territorio all'interno delle mura cittadine della città dell'Aquila con un evento che comincerà alle 17.30 di domani, il cortile K. Cappelli, il corso Vittorio Emanuele. Ci sarà una specie di sfida tra chef del territorio che presenteranno un piatto allo zafferano con una giuria di rilievo e poi seguirà tutta la serata durante la quale i produttori di zafferano accoglieranno il pubblico della perdonanza. Parteciperanno alla sfida Gianluca Carrozzi di Villa Dragonetti, Eugenio Masci del ristorante Paneolio, Alessandro D'Andrea dell'Agriturismo Centura a San Pio delle Camere, Stefano Mazzetta dell'Osteria e Due Ladroni di San Vittorino con lo scrittore Vincenzo Battista che li accompagnerà con una narrazione speciale. In giuria lo chef Stella Michelin, William Zonfa. Ma come ho detto a Nicola, mi aveva chiesto semplicemente di cosa vorremmo organizzare e cosa fare per riuscire a dare, per fare squadra, per radunarci, per valorizzare, per raccontare. Ma ci è venuto in mente di organizzare questa sfida dove io sarò in giuria e leggeremo un vincitore. Ci sono 4-5 chef che raccontano il territorio tramite piatti e in questo caso tutti i piatti a base di zafferano. Niente, è un motivo per stare di nuovo insieme, per raccontarsi, per raccontare il territorio. Quindi dicevo, sono in giuria, non so, mi sembra ci sia anche il sindaco se parteciperà, non lo so. Niente, è un motivo per stare tutti insieme, per raccontare il territorio e per parlare ancora di un grande prodotto che è lo zafferano.